Saranno invitati da una pattuglia della polizia stradale ad abbandonare l'autostrada i mezzi pesanti che all'esito della pesa dinamica saranno ritrovati non in regola con il limite previsto sul tratto autostradale della Salerno-Napoli. Qui infatti per la prima volta in Italia ma probabilmente in ambito mondiale si sperimenta nel tratto che attraversa il comune di Cava dei Tirreni l'innovativo sistema di controllo che consentirà di migliorare la sicurezza secondo le nuove linee guida attuate in Italia dal 2020 dopo il crollo del ponte Morandi per monitorare tutte le situazioni a rischio in modo particolare su ponti e viadotti. L'iniziativa è stata presentata questa mattina presso la prefettura di Salerno alla presenza del prefetto Francesco Russo e del rappresentante del ministero delle infrastrutture e della mobilità l'ingegnere Placido Migliorini che ha spiegato nel dettaglio il progetto. Il sistema servirà non solo, è importante dal punto di vista della sicurezza stradale ma è importante anche per alleggerire il traffico all'esterno sui comuni della Corona di Salerno soprattutto Cava dei Tirreni e anche Nocera che sono praticamente dalla limitazione del traffico a 7,5 tonnellate sulla tratta Cava-Salerno evidentemente hanno avuto parecchie conseguenze negative. Per cui questo è un giorno, fra l'altro appunto questo aspetto fondamentale per sicurezza e traffico e anche la presentazione di un progetto innovativo. La tecnologia sicuramente aiuta molto insomma, quindi questo è un momento di progresso. In modo tale che chi eccede quel limite di massa venga accompagnato fuori e quello che faremo e che avviamo da oggi sulla tratta autostradale Cava-Salerno con queste pese dinamiche che rilevano tutti i veicoli in transito e chi eccede le 40 tonnellate ci sarà la pattuglia della Polizia Stradale che li fermerà, li farà ovviamente il relativo verbale e li accompagnerà fuori. Presenti anche i sindaci di Cava dei Tirreni e Nocera Inferiore l'amministratore delegato di Autostrade Meridionali Massa È un intervento che nasce con la collaborazione con il Ministero e delle società del gruppo Autostrade per l'Italia nasce in un momento particolare del nostro paese in cui c'è grande attenzione sul tema della sicurezza delle infrastrutture dei ponti, dei viadotti e questo è uno strumento che ci consente di viaggiare in sicurezza perché c'è qualcuno che vigila e sorveglia sulle capacità delle infrastrutture è un sistema, una piattaforma unica in Italia e forse in Europa e nel mondo è un sistema, una piattaforma unica in Italia è un sistema, una piattaforma unica in Italia